Lo so, lo so Per la realizzazione di questo video sono un pochino in ritardo E infatti era in coda da novembre del 2018 Solo che non ho potuto realizzarlo Perché uno, non mi andava Cioè sì, mi andava Infatti avevo già registrato il video Solo che ho avuto un problema con Windows Che mi ha cancellato i video dell'hard disk Anzi non mi ha formatato l'hard disk Me l'ha formatato, me l'ha obliterato E quindi finalmente sono qui con la recensione Del Samsung Gear S3 Frontier Non potevano chiamarlo con un nome più lungo di così Partiamo subito con le caratteristiche tecniche di questo smartwatch Come processore abbiamo un dual core da 1 GHz Un Super AMOLED circolare da 1,3 pollici Con risoluzione a 360x360 Il vetro è un Corning Gorilla Glass SR+. Abbiamo 768 MB di RAM 380 mAh di capacità della batteria E infine 4 GB di memoria di archiviazione Quest'ultimo è un agglomerato di sensori Infatti presenta un barometro Un giroscopio Un accelerometro E poi infine un sensore di battiti Situato nella parte posteriore Nella parte inferiore Scusate Dell'orologio Come sistema operativo stock Non abbiamo sfortunatamente un Wear OS O Android Wear Chiamatelo come vi pare Tanto Google è solito a cambiare i nomi ai suoi sistemi operativi Abbiamo invece un Tizen Che è un sistema operativo proprietario Samsung Per i suoi Gear o Watch E devo dire che nonostante non sia presente un Wear OS O Android Wear Tizen fa il suo lavoro Fa il suo lavoro Però Diciamo che Appena acceso l'orologio Si verificano dei rallentamenti Però nulla di trascendentale Solo che il sistema Si deve ristabilire E caricare le applicazioni Uscito da quella fase È veloce È normale Responsivo E infatti Tizen viene costantemente bombardato Con aggiornamenti software Per migliorare l'orologio E le sue performance Gli aggiornamenti dell'orologio Ne parleremo in seguito Ora però Parliamo di audio Per quanto riguarda l'acustica Lo smartwatch presenta tre piccoli fori Nella parte laterale sinistra Parte che appunto presenta La capsula audio Che dovrebbe essere secondo il software Stereo Però non ho notato grandi differenze Tra mono e stereo Non c'è neanche un vero compromesso Tra alti e bassi Ma poco importa Si sente bene uguale Infatti eccovi una dimostrazione Non si sente come si sentirebbe da un telefono Però Diciamo Che Non è il suo utilizzo Principale Quello di ascoltare Canzoni E a proposito di canzoni E musica Possiamo decidere di Sincronizzare Le nostre canzoni Dallo smartphone Allo smartwatch Quindi potete decidere di Ascoltare le vostre canzoni preferite Direttamente dall'orologio Oppure dal telefono Sempre attraverso l'orologio Ma stavolta utilizzando Un pulsante Contradistinto Dall'icona Del telefono Sempre nella app Dedicata alla musica Parlando appunto di applicazioni L'orologio presenta Molteplici applicativi Con i loro rispettivi widget La home page dello smartwatch È appunto L'orologio Però si può eventualmente cambiare Qualora voleste cambiarlo Con l'ausilio dell'app Wear Che precedentemente Si chiamava Gear Solo che hanno cambiato nomi Non so perché Samsung Che cosa stai facendo Perché i Gear Sono diventati watch A me andava bene anche Gear Perché lo devi cambiare in watch Ma vabbè Poco importa Quest'app È presente su iOS E Android Questa applicazione Ha la facoltà di gestire Da remoto Le impostazioni dell'orologio Che possono essere Ad esempio Le impostazioni di sistema Gestire le schermate Dell'orologio E Aggiungere nuovi quadranti E perché no Anche scaricare nuove app Dallo store Come il browser Eh sì Perché questo smartwatch Ha anche la facoltà Di navigare su internet Questo è per gli smanettoni Là fuori Che vogliono copiare Durante le verifiche Ma ok E a proposito di connettività L'orologio può accedere a internet Attraverso il tethering bluetooth Oppure direttamente via wifi Sostanzialmente potete decidere di Collegarlo via bluetooth E quindi usare i dati del telefono Oppure via wifi Quindi collegandolo Al vostro modem di casa E sotto la pioggia Come dovrei fare? Beh dovete sapere che la certificazione IP68 Garantisce Una resistenza Approssimativamente A due metri Sott'acqua Quindi potete anche Immergerlo nell'acqua Senza che vi si rompa O vi si rovini E infatti Io lo tengo 24 ore su 24 Sette giorni su sette Per ascoltare magari La musica In doccia Lo smartwatch Si rivela particolarmente utile Nei momenti in cui Non potete Rispondere alle chiamate Tramite cellulare E quindi vi basta Uno swipe veloce Per rispondere Alle chiamate Tramite orologio L'audio Come ho già detto Non è dei migliori E infatti Nei luoghi in cui È presente Del rumore Si fa fatica Anche a sentire Da ravvicinato E poi Parliamo di S-Voice Anzi no Non ne parliamo affatto Perché è inutile Non ne parliamo Facciamo prima Sullo smartwatch È presente Lo store Samsung Da cui potete Scaricare Applicazioni Giochi E infatti È una cosa Molto utile Nella controparte Apple Invece è arrivato Solo ora Dopo il keynote Che hanno fatto Recentemente Ritorniamo a parlare Un attimo Del browser Sullo store Sono presenti Due tipi di browser Quello stock Samsung Che è presente Anche sui telefoni E l'altro tipo Di browser Che non mi ricordo Come si chiama Ora Con questi Infatti Possiamo Vedere I video Su internet Oppure Navigare Su Instagram In versione Miniatura È molto carino Devo dire Però Non mi dispiacerebbe Un'app Dedicata Ad Instagram Per l'orologio Sarebbe una figata Eh già Per YouTube Invece Si può fare Un pochino di più Perché non è Intuitivo Come interfaccia Perché Adopera La web app Di YouTube Quindi È un po' Se si parla Di orologi Smart Quindi Smartwatch Si parla Molto spesso Anche di Health E Salute In italiano Lo smartwatch Infatti Presenta Già preinstallato L'applicazione Samsung Health Che vi permette Di sincronizzare I vostri passi I vostri BPM All'analoga Applicazione Del telefono Quindi potete Monitorare Tutto Praticamente Dai battiti cardiaci Ai passi Alle kilocalorie Perché si In base ai passi Lui conta Anche le kilocalorie Che avete Bruciato Quindi è una cosa Che si rivela Molto molto utile Se dovete Monitorare I vostri passi Le vostre kilocalorie Eccetera Eccetera Samsung Pay Che è un'applicazione Che permette Anzi no Un plug in Che permette Il pagamento Diretto Dall'orologio Ovviamente Sincronizzando Le vostre carte Tramite l'applicazione Samsung Pay Del telefono Potete pagare In qualsiasi momento Avvicinando L'orologio Al macchinario Insomma Dei pagamenti Non tutte le carte Sono compatibili Ad esempio La Poste Pay Non è compatibile Lo volevo utilizzare Tempo fa Con la mia Poste Pay Ma niente Non è Si è rivelato Incompatibile A parte l'incompatibilità Con alcune carte Di credito Mi sembra un'ottima idea Quella di Pagare direttamente Dall'orologio Così non dovete Tirare fuori la carta Ogni volta Che Dovete pagare Appunto Con la carta Prima ho detto Che saremo tornati All'argomento Degli aggiornamenti E infatti Recentemente Tutti I Samsung Gear S3 Compreso anche I Samsung Watch E i nuovi Samsung Watch Active Hanno ricevuto L'aggiornamento Del One UI E ragazzi È una cosa Bellissima Per chi non sapesse Di cosa sto parlando One UI È il nuovo aggiornamento Samsung Presente anche Nei nuovi smartphone Un aggiornamento Che Samsung Ha voluto introdurre Con i nuovi S10 Un aggiornamento Che rende molto fluide Le animazioni Anche nell'orologio Sono cambiate Le icone Nuove animazioni Insomma Una nuova Interfaccia E devo dire Che gli smartwatch Samsung Con One UI Sono una cosa Bellissima È molto interessante Anche il sistema Delle notifiche Che vi permette Di vedere Le notifiche Che vi arrivano Da alcune Applicazioni Del telefono Direttamente Sull'orologio E potete anche Decidere di bloccarne Alcune Qualora non voleste Le solite notifiche A random L'orologio è Praticamente diviso In due parti Nella parte A destra Sono presenti I widget E le applicazioni Mentre a sinistra Abbiamo le notifiche Potete rispondere Direttamente Alle notifiche Di Whatsapp Direttamente Dall'orologio Scrivendo A mano libera Oppure Scrivendo Insomma Con il vecchio Stile di scrittura Nei vecchi Telefoni Con i tasti Potete anche Decidere Di visualizzare La notifica Nello smartphone Premendo un pulsante Apposito Nello smartwatch Oppure Segnalare Come già letto E poi basta Uno swipe in su E la notifica Viene eliminata E comunque Non mi sarebbe dispiaciuto Un Whatsapp In miniatura Nell'orologio Sarebbe stata una cosa Molto figa Però si rivelerebbe Un pochino faticoso Per chi Non fosse abituato A scrivere In miniatura In uno spazio Così ristretto E Bene ragazzi Io direi di concludere Qui la recensione È stata Lunga Una recensione Che volevo fare Da tantissimi mesi Che Però Non Insomma Come ho già detto Sono verificati Dei problemi E quindi Non ho Non l'ho mai fatto Lasciate un pollice in su Se vi è piaciuto il video E qualora non vi foste piaciuto il video Pollice in giù E noi Ci rivediamo Alla prossima Alla prossima